A San Giovanni Valdarno siamo nati fino agli anni 70, la mia generazione nasceva ancora nel comune di San Giovanni Valdarno potrebbe essere 50 anni dopo l'opportunità di tornare a nascere proprio a San Giovanni Valdarno e quindi essere un H901 H901 è il codice catassale di San Giovanni Valdarno, un codice identitario che adesso i nuovi nati sangiovannesi potrebbero riportare nuovamente sul loro codice fiscale Il deputato del PD Marco Simiani ha infatti depositato una proposta di legge che vale ovviamente per tutta l'Italia per l'istituzione del luogo elettivo di nascita Può essere secondo me un valore aggiunto nell'ambito non solo dell'espressione della propria identità ma anche nella capacità di poter vivere un territorio Il far riconoscersi e riconoscere un territorio perché ormai sulle carte di identità, delle patenti, delle patenti non ci sono però insomma dei passaporti non ci sono più di una volta come poteva essere San Giovanni o poteva essere altri comuni delle aree interne e questo sia un fatto negativo Noi dobbiamo ritornare a rendere protagonisti territori C'è un mese di tempo prima della pubblicazione per verificare il testo nel momento in cui sarà pubblicata sarà mia cura cercare di incardinarla nelle commissioni referenti Chiaro che rimane ferma la nostra attenzione nei riguardi dell'ospedale di Santa Maria della Gruccia un'attenzione forte anche alle problematiche, alle criticità, alle carenze di personale ma mi sembrava opportuno anche poter concedere ai San Giovanni l'opportunità di tornare a nascere nel proprio comune quindi io spero e mi auguro che l'iter parlamentare possa essere accolto anche dalla maggioranza che attualmente governa questo paese e possa diventare veramente un disegno di lui